Uno stanziamento di oltre 40.000 euro per concedere altri metri alle spiagge del litorale e permettere ai gestori degli stabilimenti balneari di installare più ombrelloni da poter destinare alle strutture ricettive della città. Si è concluso con questo intervento da parte dell'amministrazione comunale l'incontro intercorso tra il vice sindaco Daniele Vimini, l'assessore all'operatività Enzo Belloni e gli operatori balneari in seguito alle problematiche emerse nell'ultima riunione degli albergatori, durante la quale è stato evidenziato il basso numero di postazioni concesse dalle spiagge agli hotel. Mai come in quest'ultimo periodo siamo stati investiti sulla costa, abbiamo fatto ripascimenti per 780.000 euro e rifoltimenti delle scogliere sotto monte per 780.000 euro, sui ripascimenti sono stati investiti in prima battuta sul primo progetto 127.000 euro e raccogliendo insomma quelle che sono state le istanze di albergatori e di bagnini. Abbiamo ulteriormente incrementato la cifra di ulteriori 40.000 euro, questo per dare la possibilità di allungare la spiaggia e quindi di mettere più ombrelloni e metterli a disposizione degli operatori turistici. Abbiamo avuto da parte dei balneari insomma grande disponibilità a raccogliere quelle che erano le istanze nostre degli albergatori quindi insomma siamo soddisfatti dell'incontro che abbiamo avuto e ci siamo lasciati anche con l'impegno insomma di condividere insieme una strategia da presentare alla regione che vorrei ricordare la regione è l'ente che ha la competenza sulla costa. Nel corso dell'ultima riunione gli albergatori avevano manifestato malumori anche per il ritorno dell'isola pedonale in Viale Trieste, progetto ampiamente riconfermato dall'amministrazione comunale che a breve inizierà i lavori per poterli attivare dal prossimo 11 giugno. Abbiamo deciso di iniziare da lunedì 7, i lavori consisteranno nella colorazione della pavimentazione mantenendo il pentagramma, sono previste 24 panchine lunghe, oltre 55-56 fioriere non ricordo esattamente tra grandi e piccole, ci saranno 10 gazebo in legno con la copertura sullo stile balneare diciamo colorata, verranno riportate le famose lampade che avevamo messo in centro quest'estate, la volontà dell'amministrazione è quella di avviare un progetto di riqualificazione strutturale del viale che ci vorrà portare ad avere un viale nuovo realizzato ovviamente a step dove in inverno potrà essere carrabile e in estate mantenere l'idea della pedonalizzazione grazie al fatto che abbiamo anche acquistato il parcheggio di Villa Marina e già dai prossimi giorni lo renderemo fruibile e gratuito ai cittadini. Inoltre si implementa la mobilità all'interno della zona pedonale e attraverso le navette del trenino, abbiamo allungato alle 11 il permesso di carico e scarico per le attività commerciali e la possibilità di passare nell'arco delle 24 ore ai taxisti quindi per risolvere le esigenze e le richieste che arrivavano dagli albergatori. Penso che quando esci dall'albergo specialmente turisti con famiglie, con bambini, sanno che non passano macchine, non passano nessuno, è un valore aggiunto sicuramente, non è un'azione che penalizza gli alberghi. Il parcheggio dell'alberghiero invece abbiamo raggiunto l'accordo con la provincia e con la scuola di anticipare anche di un paio di settimane l'apertura, quello diventa strategico dal punto di vista della viabilità soprattutto sul lato sud di Viale Trieste e quindi su quello ci lavoriamo.